Buongiorno a tutti, eccoci all'introduzione dell'Opera 9, dal suo auto magico di Mozart, l'introduzione e variazioni di Fernando Sor. Allora, l'introduzione... dobbiamo dire alcune cose. Allora, partiamo dalla corte naziale, questo Mi minore. Ho visto che molti lo arpeggiano in questo modo, va bene in qualunque modo, però nel metodo di Sora è indicato che lui probabilmente l'avrebbe suonato tutto con il pollice. Dice quando dobbiamo suonare tutte le sei corde, utilizza il pollice. Quindi qui possiamo utilizzare, appunto è forte, possiamo utilizzare una bella pollice. Poi... U... Attenzione perché il tempo è molto lento, è un andante largo. Quindi se noi facciamo... 1, 2, 3, 2, 1, 1 Ok, quindi attenzione lì a nonno, fare la pausa più corta. Quindi 1, 1, poi... C'è scritto dolce. Ecco, questi accordi con tre note, solo utilizzava pochissimo l'anulare. Lo utilizzava solo in situazioni di questo tipo, cioè dove doveva fare un basso e altre tre note. Ok? In questo caso utilizzava l'anulare. Se no, se lui doveva fare quattro note vicine, utilizzava mettere indice medio sulle prime due corde e poi far scorrere il pollice... Velocemente. Lui nel suo metodo dice... Adesso non ricordo più che pagina, però... Dice il pollice può essere utilizzato e fatto... Utilizzato velocemente su due corde per fare in modo che possano sembrare come suonate assieme. E effettivamente funziona. Quindi, in quel caso lì, quando abbiamo tre note, possiamo utilizzare pollice indice medio. Allora, apriamo una piccola parentesi. Possiamo utilizzare anche indice medio nulare? Certo. Ok? Cioè, nessuno ci vieta di utilizzare o di utilizzare una tecnica più moderna. Però sappiate che Sor probabilmente lì utilizzava pollice indice medio. Nell'accordo successivo ho battuto a quattro, proprio per quello che ho detto prima. Quindi pollice pollice, indice medio. E poi piano questo re diesis, quindi... Pausa. Poi sempre un pollice che parte da questo accordo di si settimo. E a quinta corda... Due... Due... Poi uno... Due... Ok? Pausa da due quarti. Io uso il secondo dito su questo Si per fare... Ok? Quindi secondo dito e possiamo farlo vibrare. Acciacatura. Il sol e il mio quarto volto. Due... Uno... Due... Poi... Allora, qui abbiamo... La melodia è... Sulla prima corda. Ok? Allora, anche qui nel metodo di Sor c'è scritto che... Sor non dava mai la melodia all'annulare... Non assegnava mai all'annulare la melodia. Però... In realtà potremmo usare tranquillamente... Cioè, o facciamo così... Quindi pollice medio... Ok? Oppure... Possiamo utilizzare... Insomma... Non è un po' un problema. Allora, la battuta 10... In alcune versioni è indicata una nota da un quarto con i due punti. E poi finisce con un sedicesimo. Stiamo parlando della prima metà della battuta. Questa... Questa... Ok? E spesso, appunto, la si sente suonata. Ok? Io stesso la suono in questo modo. Attenzione, qui sempre a far sentire bene la melodia. E qui... E un pochino più piano l'accompagnamento interno. Nella versione, però, di Brian Jeffrey... Aspettate che ve la prendo. Ecco qua, dice... Di queste battute dell'introduzione, può essere semplicemente terzina. Il ritmo punteggiato è solo una convenzione notazionale. Per una discussione su questo tipo, vedere il New Groove Dictionary of Music. Abbiamo un problema, appunto, di notazione. Perché effettivamente, anche nella... È presente nell'ultima variazione. Se noi quel passaggio lo suoniamo... Cioè, magari ve lo metto poi qui da qualche parte nel video. Se noi facciamo... Ok? Se noi la parte sopra, quindi l'ottavo, l'ottavo e poi il sedicesimo... Ci scriviamo sopra tre, cioè lo facciamo diventare una terzina... Potrebbe corrispondere... Cioè, terminare... Ok? Quindi suonare assieme alla nota sotto. È un errore? Cioè, il sor veramente voleva... Voleva così? Cioè, voleva suonare... Quindi è solo un errore di scrittura? Può essere, perché in quel periodo... Anche alcuni amici pianisti, che ringrazio... Gianluca Rovelli. Che mi ha aiutato in questa ricerca. Per esempio, mi ha detto che... Spesso... Potevano esserci dei problemi legati alla scrittura. Ok? Quindi in quel caso lì... Magari non hanno messo la terzina indicata sopra. Ma del resto, il numero tre, la terzina, veniva indicata anche per i bassi. E non veniva riportato il tre ovunque. Poteva quindi essere un problema di quel tipo lì. Quindi effettivamente il sor voleva così. Oppure voleva... Non si sa. Ok? E purtroppo non c'è neanche più. Quindi non possiamo neanche chiederlo. Va bene. L'esecuzione è... Ripeto, nella maggior parte dei video... Che mi è capitato di vedere in YouTube... Anzi, in tutti i video... In cui l'introduzione la fanno... La fanno tutti così. Ok? E quindi... Manteniamo insomma questa... Questa cosa. Però... Un dubbio mi viene insomma. Proseguiamo. Quindi qui, anche qui... Abbiamo sempre la melodia da tenere sopra. A battuta dodici. L'accordo è questo. Poi... La... Abbiamo sempre lo stesso... Lo stesso dubbio di prima, eh. Se questo la va suonato assieme. Oppure no. Qui abbiamo questo movimento molto veloce verso... La, 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 la... Che possiamo fare in questo modo. Senza far sentire troppo lo strisciato. Capito? Ok? Oppure potremmo farlo anche... Visto che abbiamo il cambio di posizione. Prendendo il Do qui. Dovete stare attenti a far suonare... E poi questo. Ok? Per la battuta successiva... Battuta tredici... Ho visto un sacco di soluzioni diverse. Se io ho adottato questa... Che è prendere questo La al settimo tasto... Poi... Re diesis... Mi... Fa... Mi... Re... Ok? Perché c'è da tenere queste due note. Il La e il Do. Ok? Poi... Stringo... Faccio Mi Si... Poi... Sulla... Sulla prima corda... Allora, quel Mi... Che è indicato... Perché sono indicati solo le Mi che vale un quarto. E... Quindi... Si... Mi... Fa... Dovrebbe suonare. Ok? E come facciamo a tenerlo? Cioè... Lo facciamo qui... No... Si... Mi... Mi... Lo togliamo proprio all'ultimo. E facciamo questo. Io faccio così. Mi... Fa... Fa diesis... Sol diesis... Anche per la battuta successiva ci sono diverse interpretazioni, diversi modi di suonarla. Io ho deciso di suonarla così. Quindi fa diesis e la. Quindi fa... Poi sulla terza corda... Sulla terza corda... Si... Do... Do... Diesis... Re... Re diesis... Poi mi sposto, faccio scivolare il 2... Faccio Mi Sol... Ecco, in questa terzina, attenzione che il Sol dobbiamo tenerlo per tutta la terzina. Quindi... Sol... 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 Sol diesis... Ok? Poi possiamo fare la diesis... Qui... Ok? Poi... Sempre il 4 e 1... Accordo di si-se... Di si... Poi accorda a vuoto... Questa è la prima volta, magari possiamo farlo forte, quindi facciamo armonico dodicesimo... Poi accorda a vuoto... Questo... Armonico a settimo tasto sulla prima corda... Qui abbiamo nell'ultimo... L'ultimo quarto della battuta 16... Questo... Che si collega con l'altro... Io ho scelto... Come diteggiatura per la mia mano sinistra... Ehm... Allora... Ehm... Questa... Per non ribattere le dita... So che... Come ho detto prima... Sor non utilizzavo l'anulare... Per non ribattere lo stesso dito sulla... Sulla corda... Perché se utilizziamo solo l'indice medio potremmo fare... Ehm... E poi per forza un dito... Un dito dobbiamo... Dobbiamo ribatterlo per forza... E allora io utilizzo medio anulare... Poi... Indice... Pollice... Anulare... E poi... Indice medio... Quindi... Anulare... Medio anulare... Indice corda vuota... Pollice... Anulare... Sul fa diesis... E poi... Mi sol... Con indice medio... Quindi... Ok? Poi la seconda volta... Magari lo possiamo suonare piano... Lo stesso accordo di prima... Forte... Stessa frase che si ripete... E poi piano... E poi piano... Ok? Mmm... Poi battuta venti... Qui abbiamo... Questa legatura... Quest'altra legatura... Poi... Fa diesis... Re diesis... E poi al basso... Quindi... Io questa... A battuta venti la sono piano... Arrivo da... Qui... E poi... E poi... Invece... Forte... Qua... 1... 2... attenzione che è il si da tenere qua il battuto a 22 forte ecco qua faccio scivolare il la diesis la diesis si pausa pausa attenzione allora in queste pause possiamo usare la mano così la mano così quindi pausa trovo che però mettere la mano così mettere la mano così mettere la mano così sia molto scomodo almeno in questa situazione qui perché? perché poi devo risuonare sempre le stesse corde e quindi in qualche modo vado a perdere un po' l'assetto della mano e allora io faccio questa cosa qua cioè vado a mollare la pressione sulle tre corde che sto schiacciando e poi metto quindi ho metto le inizio mediano lare sulle prime tre corde e il pollice sul basso di mi quindi vado a stoppare la sesta corda con il pollice la quinta corda con l'indice che sta premendo la quarta con il con l'anulare la terza corda con l'indice la seconda corda sia con il medio della mia mano sinistra ma anche con l'altro e poi con l'anulare vado sopra la prima corda quindi diventa in questo modo no scusate qua cioè nel momento in cui metto giù la mano metto giù la mano molla anche la pressione ok spero che questa prima introduzione questa introduzione vi sia utile se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale mettete un like a questo video e proseguiamo con il tema a presto